Buongiorno! Finalmente, prima reaction, commento della prima puntata dell'ultima stagione di Game of Thrones. Ragazzi, io non ci credo. Ieri sera, cioè stanotte, siamo stati in live fino alle 3 per seguire la prima puntata in diretta. Eravamo tantissime, eravamo 50, io non me l'aspettavo. All'ultima live che ho fatto, mi sa per la quinta o per la sesta stagione, non mi ricordo, eravamo tipo 15. Quindi vi ringrazio tantissimo a tutti i ragazzi che sono rimasti fino alla fine. La live rimarrà disponibile sul canale, quindi se volete fare questa follia e riguardarvela tutta rimarrà disponibile. Ho avuto anche degli ospiti, sono passati Alberto e Lorenzo, è venuta anche la Fred, insomma è successo di tutto. Ma veniamo a noi, prima puntata dell'ottava stagione. Il titolo della puntata è Winterfell. Iniziamo a parlarne, perché c'è da dire, ci sono cose da dire. Allora, iniziamo col dire che io ho grandi aspettative per questa stagione, come tutti noi. Questa puntata a me non è dispiaciuta, anche se ci sono stati dei picchi di cringe di cui parleremo dopo. Però mi è sembrata una puntata introduttiva, ma nemmeno troppo. Nel senso che comunque ormai di introduzione a noi non ce ne servono, perché la storia la sappiamo, siamo alla fine, non servono tanti preamboli. Non mi è dispiaciuto però che questa puntata qua si sia presa il suo tempo per farci le varie reunion, risolvere cose, varie rivelazioni, eccetera. Quindi, tutto sommato, non mi è dispiaciuta. È stata una puntata molto sui feels, sulla nostalgia, io in realtà me l'aspettavo molto che fosse così. Ho apprezzato tantissimo che questa puntata sia stata strutturata esattamente come la prima puntata della prima stagione. La puntata inizia con questo bambino che si arrampica e vede il corteo reale, come si dice, il corteo di corte, il corteo di cose, di Daenerys che arriva a Winterfell. Esattamente come Bran nella prima puntata si era arrampicato per vedere arrivare Robert. Molto interessante che dentro alla carrozza ci sia Tyrion, mentre all'inizio della serie dentro c'è Cersei. Questo parallelismo è molto interessante. E anche quando arrivano Jon e Daenerys nel cortile di Winterfell e ci sono gli Stark ad accoglierli, manca sempre Arya. Arya deve essere cercata e mentre nella prima stagione Arya in realtà poi arriva, qua Arya non arriva mai a presentarsi a Daenerys perché è in giro a fare robe. Ci sono tutte le varie reunion di cui parlavo. Allora, analizziamole un attimo. Quella che secondo me è stata quella più riuscita, diciamo, è quella tra Arya e Jon. È stata quella forse più sentita, più carina, diciamo, più dolciosa. È stato carino anche che Jon si ricordasse di Ago. Insomma, è stata quella un po' più sentimentaloide. Io ho apprezzato particolarmente la reunion tra Sansa e Tyrion. Una reunion molto fredda, come poi è giusto che sia. Loro non si vedevano dal matrimonio di Joffrey. Allora, io Sansa di questa stagione qua la sto amando. Il fatto che Tyrion le riconosca, il fatto che Sansa sia stata da tutti sottovalutata, più volte calpestata, è stata maltrattata, le hanno fatto di tutto. E adesso sia lì piena dritta, fiera, sia riuscita a seppellirli tutti. È una cosa molto, molto grande per Sansa. Che poi siamo un po' tutti noi. Cioè, tutti noi abbiamo sempre sottovalutato Sansa e l'abbiamo, cioè, odiata per molte stagioni. Io mi ci metto anch'io perché non era la mia preferita. Adesso invece l'ho super rivalutata e tra Sansa e Daenerys, mille volte Sansa. A questo proposito, l'incontro tra Sansa e Daenerys, bellissimo, stupendo. Sansa è stata fantastica, lo sguardo di odio totale. Di questo parliamo dopo. Continuiamo con le reunion. Reunion Bran-Jon, molto fredda come è normale che sia. Bran ormai ha un automa. Jon mi ha fatto piacere vederlo contento nel vedere Bran, però vabbè, dall'altra parte non c'è niente così, ok? Carina la reunion Aria-Mastino-Gendry. Aria e Gendry c'è questo strano feeling. Non so dove vorranno andare a parlare, se andare veramente verso la ship potente e farli veramente accoppiare, non lo so. Il Mastino è un patatone, cioè il Mastino è... Sì, è un patatone. Quindi non penso che Aria lo ucciderà, non lo so, non ho idea. Però è un patatone. E' molto carina, molto sentita, ma quasi dalla cremuccia alla reunion con Samuel. Anche se loro in realtà non sono stati lontano tanto, però è stato bello rivederli insieme. Cioè è stato carino. Poi dopo parliamo di quello che accade dopo. Dicevo, Sansa contro Daenerys, contro tra virgolette. Io non so da che parte state voi, io ho sempre palesato il fatto di essere un po'... Non dico contro Daenerys, però non è la mia preferita. E capisco il punto di vista della gente del Nord che, come dice Lianna, giura fedeltà a Jon e poi si ritrova con un cetrolo nel culo con una regina straniera che non sanno chi sia. Insomma, una cosa che nessuno si aspettava, no? E la gente del Nord giustamente non si fida di Daenerys perché non sanno chi sia. E Sansa in primis perché lei ha giocato fedeltà a suo fratello e si vede questa. Chi è? Cosa sei? E giustamente la domanda che ci poniamo tutti, ma tu hai bendato il nì perché ti fidi di lei nella sua causa o perché sei innamorato di lei? La grande domanda. Jon sinceramente mi sembra un po' in balia di Daenerys. Non dico ai livelli di Jaime e Cersei, però quasi, nel senso che mi sembra un po' a livelli di infatuazione, tipo che non sto capendo niente. Il suo punto di vista non è sbagliato, nel senso che senza Daenerys non vinciamo, è vero. Però dal punto di vista politico, dal punto di vista minchino sei la mia regina, cioè non ho. A questo proposito qua mi aggancio subito al reveal a Jon da parte di Samuel. Abbiamo il Nord che è diffidente a bomba nei confronti di Daenerys, nonostante lei abbia due draghi, gli abbia portato l'armata della vita. Jon apprende da Samuel che lui è il legittimo rete al trono. A parte la scena mi è piaciuta, la scena del reveal. Non mi aspettavo in realtà qualcosa di diverso. Sia che glielo dicesse Bran, sia che glielo dicesse Samuel, non mi aspettavo qualcosa di profondamente diverso. Forse una cosa con una musica un po' più da pathos, non so come dire. È stata un po' piatta come scena, però è stata decente. Io avrei preferito il flashback di Lianne Rager in questo momento, piuttosto che prima. Oppure inserire un altro pezzo di un flashback in questo momento, per approfondire un po' di più il background di Jon, della sua vita, della sua infanzia, del suo passato. Quindi dicevo, abbiamo il nord di Fidente verso Daenerys. Adesso Jon sa del suo passato, lo sa Samuel, lo sa Bran. A maggior ragione il nord non se la cagherà mai Daenerys, perché se sanno che Jon è il legittimo rete, saranno con Jon e Daenerys. Va bene, sì, ha i draghi, però anche Jon sa volere sui draghi, quindi fa niente. Quindi Daenerys perde un po' la sua utilità. Sì, ci sono gli immacolati che le giurano fedeltà, però in un'ottica di battaglia dove tutti stanno morendo, me ne frega poco, nel senso che tutti dobbiamo salvarci e queste guerre di potere, questo io giuro fedeltà a lei, no, però io l'ho giurata a lui, quindi non posso giurarla a te, è tutto inutile, quindi non lo so, mi sembrano tutti discorsi un po' inutili. Vedremo. Secondo me ci hanno dato questo ritratto del nord di Fidente verso Daenerys, perché ci hanno dovuto dare, diciamo, l'assist per introdurci Jon, futuro re. Una roba del genere, non so come spiegarmi. Ne parleremo meglio nei commenti qua sotto, adesso vedremo. Appunto, Jon ha volato su Regal. Allora, sta scena qua a me ha fatto schifo. Cioè, schifo no, nel senso che è stato un po' underwhelming, nel senso che mi aspettavo una scena con un po' più di pathos, meno comica, è stato un po' veramente la storia infinita, how to train your dragons, e mi aspettavo una cosa con un po' più di emozione, cioè un po' più da imprinting. È vero che loro hanno avuto l'imprinting, lui e Regal hanno avuto l'imprinting in un'altra puntata, però la prima cavalcata su Regal, secondo me, era meglio farla un po' più seria, meno comica, con Jon che rischia di cadere. Anche perché la morte per caduta dai draghi è una delle prime cause di morte per i Targaryen, quindi manca Daenerys di ragione. Sì, sì, vai tranquillo, non ti preoccupare, è sicura come cosa. Mi sembra una cosa un po' incosciente, però ok, si vede che si sentiva che tutto era a posto, va bene. E la scena della cascata è stata veramente imbarazzante, non tanto per il fatto che il drago li guardi, perché a differenza delle altre persone con cui ho parlato, che l'hanno vista un po' come cine panettone, nel senso del drago che ti fissa mentre fai le robe, a me quella cosa lì, io l'ho intesa come il fatto che i draghi sentano, percepiscono il sangue Targaryen, quindi loro sentono che quello che sta accadendo, non che è sbagliato, ma comunque i Targaryen hanno fatto cose peggiori, hanno fatto cesti, robe, però comunque siano concentrati su Jon perché lo riconoscono come un loro simile, un loro parente, non so come dire, affezionato, non so come dire, però proprio la chimica tra Jon e Daenerys è stata terribile in quella scena lì, è stato imbarazzante, le sembravano veramente due persone sconosciute che adesso ti bacio, va bene, adesso ci baciamo, adesso ti bacio prima io, no ti bacio prima io. è stato bruttissimo, io sfido una persona che mi venga a dire qua sotto Daenerys e Jon sono bellissimi, sono innamorati, hanno una bellissima chimica, è atroce quella scena lì, è bruttissima, mentre Regal che guarda Jon, secondo me è carino il fatto che ci sia questo sguardo tra di loro, anche se accade in un momento terribile in cui lui sta baciando Daenerys, però secondo me è simbolico il fatto che lui abbia il richiamo del suo passato attraverso Regal, non è bruttissima come cosa, lo sguardo di Regal è tutto puccioso, carino, a me non è dispiaciuta la cosa del drago che lo guarda, insomma, vabbè. Per quanto mi riguarda il momento più significativo di questa puntata è stato non tanto il reveal a Jon, ma quanto il reveal a Samwell, quella scena lì è stata terribile quando Samwell scopre che Daenerys e ha praticamente fatto poi la famiglia, io lo sapevo, lo sapevo che quella scelta sarebbe tornata come un grandissimo palo nel sedere a Daenerys prima o poi, e in effetti è stato così, perché appunto già non hai la fiducia del Nord, in più ti metti contro, diciamo, Samwell che è l'ultimo di una importante famiglia del Nord, che è il miglior amico di Jon, che è quello che sa il suo segreto, il suo passato non è una grande cosa, è stata una scena veramente che mi ha fatto soffrire, e su Reddit mi hanno fatto notare come non ci sia stato un incontro tra i Mormont e Jorah e sarebbe stato interessante vedere, anche se comunque, vabbè, Lianna non è direttamente imparentata con Jorah perché è molto piccolo, ovviamente non c'era ancora quando lui se n'è andato, però comunque, cioè, ha a che fare? Ci sono i Mormont lì, c'è Jorah, facciamoli parlare in qualche modo, cioè, magari riappacifichiamoci in qualche modo, non lo so, vabbè, magari non gli interessa neanche più. Poi c'è questa scena in cui Aria va da Gendry con un progetto di una cosa che deve costruirgli in Dragon Glass, che secondo alcuni è una lancia a doppia punta che si apre e diventano due pugnali, questo ho letto, secondo alcuni invece è una lancia e basta che però diventa anche un pugnale, non lo so, fatemi sapere le vostre ipotesi, io ho letto queste cose qua in giro, anche secondo me è una lancia con due punte, lei è una da pugnali, quindi potrebbe benissimo essere una cosa del genere. Spostandoci brevemente a King's Landing, la storyline che sta andando avanti di là sinceramente non me ne frega niente, cioè, mi sembrano veramente i deliri di una persona psicopatica, in questo caso Cersei, che ha fatto venire la Golden Company, lei voleva gli elefanti e non ci sono gli elefanti, vabbè, ce ne faremo una ragione, perché lei è convinta di riuscirsi a difendere con la Golden Company, ma sembrano veramente i deliri di un pazzo, perché è una persona che non si rende conto che il pericolo non è affrontabile in questo modo. Mi viene il dubbio che la Golden Company l'abbiano fatta venire, perché in qualche modo si aggiungerà alla difesa contro i White Walkers, in qualche modo, dopo che Cersei probabilmente morirà, non lo so. Euron e Cersei sono terribili insieme, sono veramente una coppia orribile, non pensavo che si arrivasse a fargli fare cose, sinceramente, e non mi aspettavo neanche la richiesta di Cersei a Bron di uccidere i suoi fratelli, con la balestra di Tywin. Non lo so, io non credo che Bron lo faccia, sinceramente, non lo so. Bron è un po' imprevedibile come personaggio, ho molta paura, ma non penso che lo farà. Secondo me ci sarà un faccia a faccia Jaime-Bron, sicuramente, perché dovrebbe chiudersi. O Tyrion e Bron, perché la balestra comunque ha più a che fare con Tyrion che con Jaime, vedremo cosa succede. Per quanto riguarda Yara, è stata liberata in un batter d'occhio, senza spiegazione di come, quando, in quanto tempo, come si è andati via, come si è arrivati, vabbè, non facciamoci queste domande. Mi è sembrata una scena un po' improbabile, un po' sempliciotta, un po' sbrigativa, perché doveva essere fatta, quindi facciamo sta roba, liberiamo Yara, andiamocene. Non avevo previsto, in realtà, Tyrion a Nord, Tyrion a Theon, scusate. In realtà ha molto senso che vada a Nord per combattere a fianco degli Stark restanti e probabilmente sacrificarsi per salvare qualcuno, penso sia un percorso molto sensato per il personaggio di Theon. Avrebbe avuto senso anche sacrificarsi per la sorella, però, insomma, lui deve un po' pulirsi il karma, quindi ha senso che vada a Nord. Hanno parlato anche di Pyke come ultimo rifugio per scappare dai White Walkers. Effettivamente i White Walkers non nuotano, da quello che sappiamo, quindi si potrebbe arrivare a Pyke e restare lì come ultima spiaggia, diciamo, però c'è sempre il drago del Night King, quindi non siamo salvi neanche a Pyke. Magari Pyke avrà un ruolo fondamentale in questa stagione. Effettivamente è uno dei luoghi che abbiamo visto di meno, uno dei, perché abbiamo visto, tipo, Alto Giardino mai visto, ci ha visto una volta. Però Pyke, appunto, potrebbe essere sfruttato di più in questa stagione, non lo so. Infine, insomma, la scena finale si svolge dai Glover, in cui Tormund e la spedizione, insomma, quelli che hanno rimasto la barriera crollata, trovano l'ennesimo simbolo a spirale lasciato con pezzi umani dai Night King, dai White Walkers. Questi simboli ritornano in tutte le stagioni, la solita spirale, il solito Kirigoro del Night King, che era presente quando è stato creato, intorno all'albero, al Weirwood Tree. Ci sono due simboli che sono ricorrenti, il simbolo della spirale e il simbolo che è un cerchio con una riga in mezzo, che è praticamente, siccome questa puntata è uguale come struttura alla prima puntata della prima stagione, nella prima puntata della prima stagione, i non-more con i pezzi di cadavere fanno l'altro simbolo, quello con il cerchio e la riga, in questa puntata fanno la spirale. Sono i due simboli ricorrenti, sono anche i simboli che ci sono nelle grotte di Dragonstone. Il simbolo con il cerchio e la riga ricorda molto il simbolo della Hand of the King, in questo momento a Tyrion, e il simbolo della spirale appunto è il simbolo del luogo dove il Night King è nato. A Dragonstone, sopra questi simboli ci sono tre figure, una delle tre figure è quella con la mano diversa, che secondo molti è Jaime. Non sappiamo benissimo che significato hanno, il simbolo col cerchio ricorre molto in Game of Thrones, appunto ricorda molto il simbolo della Hand of the King, e ricorda anche secondo alcuni il simbolo, il coso che ha Sansa qui, la catena che ha Sansa qui. Secondo alcuni la spirale è semplicemente, anche secondo me in realtà, una spiegazione potrebbe essere che la spirale rappresenta il fulcro della spirale, cioè il punto dove era messo il piccolo Glover in questa puntata, simboleggia il Night King e tutti i rami sono i non morti, uccidi il Night King, ammazzi tutti i rami e quindi moriranno tutti. Potrebbe anche simboleggiare che dobbiamo ritornare in quel punto, nel punto dove il Night King è stato creato, potrebbe simboleggiare che chi ha il simbolo del Hand of the King deve fare qualcosa di importante, in questo caso Tyrion. Non lo so, fatemi sapere le vostre ipotesi, sicuramente questi simboli devono simboleggiare qualcosa, perché sono Sansa sicuramente una chiave di lettura per il finale. Scena importantissima nel finale, Jaime e Bran. Jaime è arrivato a Winterfell, c'è lo sguardo tra loro due e la puntata finisce così. Io non potrei essere più hypata a mille, come ho detto anche ieri in live non me l'aspettavo, nel senso che fino a due settimane fa ero molto tranquilla, poi in sti giorni mi sono resa conto che sta finendo Game of Thrones e tipo sono mezza schizzata. Fatemi sapere se questa puntata qua vi è piaciuta, cosa pensate che possa succedere nelle prossime puntate, sicuramente nella prossima puntata Jaime parlerà con Jon, Sansa e Daenerys e cercherà di convincerli a farlo collaborare, e secondo me inizierà a esserci un po' di azione, quindi magari ci scapperanno i primi morti, vedremo cosa succederà. Io vi aspetto in live mercoledì sera, e ci vedremo con un prossimo video prossimamente, sicuramente con un prossimo commento alla puntata settimana prossima. Ci vediamo presto e buon Game of Thrones, ciao!